Sfiorata la tragedia, le prime ore di stamani in via Quarone Imperia, l'autista di un camion ha parcheggiato il mezzo pesante in cima alla salita nei pressi del deposito per la raccolta dei rifiuti ingombranti ed è sceso senza tirare il freno a mano. Il camion è così partito in discesa senza controllo e dopo aver travolto diverse auto in sosta si è andato a schiantare contro l'aiuola delle case popolari. Per fortuna non si sono registrati feriti ma i danni alle auto travolte dal camion sono ingenti. Per accertare la dinamica del sinistro e le relative responsabilità sono intervenuti gli agenti della polizia stradale imperiese.